PEDALANDO 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 20 giri del medesimo circuito che hanno affrontato gli atleti della categoria esordienti, vediamo proprio Yuri Colonna nelle primissime posizioni, atleta di casa è molto atteso quest'oggi, anche se non solo, in quanto è uno degli atleti più attesi a livello regionale per la stagione 2011, vedremo come se la caverà quest'oggi. PEDALANDO 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 Vediamo sempre nelle primissime posizioni Yuri Colonna, l'abbiamo detto, corridore di casa a grande atteso quest'oggi. Siamo adesso nel tratto centrale del circuito, siamo nel corso del terzo dei venti giri in programma e come vedete il gruppo si mantiene compatto, per il momento nessuno che tenta l'allungo, passiamo adesso però all'ottavo giro di gara perché c'è un attacco, è il dorsale di gara numero due Yuri Colonna, corridore di casa già precedentemente citato, tra i grandi favoriti di quest'oggi. PEDALANDO PEDALANDO Lorenzo Fortunato della società ciclistica San Lazzaro, società dell'Emilia Romagna, presente quest'oggi alla gara organizzata dal gruppo sportivo Pozzarello qui a Cerbaia di Lamporecchio, il Gran Premio Circo Loaci. Tamburini guadagna qualcosa Lorenzo Fortunato adesso, poche decine di metri per lui, ma il corridore Emiliano ha allungato in questo tratto successivo al passaggio, sotto l'ostruzione di arrivo, proprio quando c'è il rallentamento del gruppo, il corridore in casacca della società ciclistica San Lazzaro guadagna qualche metro alle sue spalle, con il dorsale di gara numero 85. Troviamo invece Francesco Nannelli della ciclistica Cecina, qualche decina di metri di ritardo per lui, eccolo, lo vedete anche dal punto di vista visivo, poi vediamo che si riportano sotto altri atleti, con il 94 Gabriele Bonechi della polisportiva Mille Luci ciclismo, poi Maglie dell'Olimpio Valdarnese, già vincitori nella prova riservata alla categoria esordienti, con lo splendido successo di Giuseppe Monteleone. Ma continuano la sua azione, davvero un bello spunto quello del corridore Emiliano, dorsale di gara 23 Lorenzo Fortunato, che però adesso viene raggiunto dal gruppo. 10 giri alla conclusione, come vedete c'è un'azione adesso al comando, un'azione importante perché sono 5 atleti adesso sulla testa della corsa, andiamo ad elencarli perché con il dorsale di gara numero 64, troviamo Linas Runzas della Montepisano, poi con il dorsale di gara 87, vediamo Francesco Cetti, con il dorsale di gara 46, troviamo invece in questa fuga Emanuele Scardigli, con il dorsale di gara numero 8, Leonard Lisi, e con il dorsale... Dorsale, tanto abbiamo visto il successo del traguardo volante del dorsale di gara numero 64, Linas Runzas. Questi gli uomini alla comando, vediamo il vantaggio nei confronti del gruppo di una quindicina di secondi, il gruppo che adesso ha rallentato un po' la propria corsa, occupa l'intera serie stradale, quindi per i fuggitivi ha anche la possibilità di guadagnare qualcosa quando siamo a metà gara, esattamente proprio a metà gara. Ulteriore passaggio davanti alla nostra telecamera, si è ricompattato il gruppo, come vedete sono stati ripresi i fuggitivi che avevamo elencato in precedenza, il gruppo è tornato compatto, anche se notevolmente selezionato tra coloro che invece avevano preso il via. Bel colpo d'occhio davvero in questo tratto, le maglie colorate che transitano in mezzo al verde delle colline, qui a Cerbaia di Lamporecchio, e con le immagini adesso passiamo, siamo circa sette giri dalla conclusione, all'attacco abbiamo con il dorsale di gara numero 60, maglie della Montepisano, Jonathan Argentieri, questo ragazzo adesso sta pedalando in solitaria, vedete pochi metri di vantaggio per lui nei confronti del plotone, e vedremo adesso se qualcuno riuscirà ad agganciare questo atleta, che sembra davvero avere un'ottima spinta, un ottimo passo, vedremo adesso alle sue spalle cosa succede, comunque Jonathan Argentieri, dorsale di gara numero 60 per lui, società è quella della Montepisano, in questo tratto in leggera salita si alza sui pedali, alle sue spalle, eccolo qua, un altro atleta che andiamo a scoprire con il dorsale di gara numero 30, Alessandro Ruggi dell'Olimpia Valdarnese, come vediamo adesso il corridore Valdarnese sta pedalando per cercare di riportarsi su Jonathan Argentieri, poi ancora altri atleti che provano ad evadere dal gruppo, eccolo qua, con il dorsale di gara numero 3, Luca Zullo, gruppo sportivo Pozzarello, società organizzatrice di questo Gran Premio Circolo Arci Tamburini, insomma si sta vivacizzando la corsa, si sta vivacizzando la prova riservata alla categoria lievi, adesso facciamo un po' la situazione, Jonathan Argentieri al comando, pochi metri di vantaggio per lui sul corridore dell'Olimpia Valdarnese, vale a dire Alessandro Ruggi, in terza posizione in questo momento, con circa 50 metri dalla testa della corsa, troviamo Luca Zullo del gruppo sportivo Pozzarello, quando siamo al passaggio, sotto lo striscione di arrivo si sembra ricompattarsi il gruppetto, 7 giri alla termine e il terzetto a questo punto guida la corsa, eccolo qua il terzetto che si è sganciato, qualche metro di vantaggio ancora per Alessandro Ruggi, svolta a destra, possiamo parlare di tre uomini a comando, si sta per agganciare un atleta in casacca della polisportiva di Valdinievole e poi il gruppo, come vedete adesso il gruppo con un ritardo però di una quindicina di secondi, quindi ancora davvero mutevole la situazione, infatti cambia nuovamente, perché adesso con le immagini siamo ormai a 5 giri dalla conclusione e alla comando, troviamo ancora Lorenzo Fortunato, l'atleta in casacca della società ciclistica San Lazzaro, sta veramente rendendo onore e a questa prova, attaccato più volte il corridore Emiliano, alle sue spalle vediamo il gruppo che sta cercando di organizzarsi scatti e controscatti dalla testa del gruppo, qui vediamo a fare l'andatura ancora con il dorsale 60, Jonathan Argentieri, protagonista in precedenza di una bella azione, poi con il dorsale 84, Francesco Lorenzini, un altro dei corridori attesi, 4 giri al termine intanto Lorenzini che milita nella ciclistica Cecina, alle sue spalle con il dorsale di gara numero 50, Francesco Pini, insomma questa è un po' la situazione che è ancora però molto fluida, il gruppo è ancora molto numeroso e per il momento sembra molto vigile nei confronti di tutti i tentativi di fuga che ci sono stati dalla partenza fino a questo momento, mancano 4 giri quindi poco più di 12 km alla conclusione, torniamo in testa perché si è formato un quartetto e andiamo a vedere di chi si tratta, abbiamo con il dorsale 60, molto attivo, l'abbiamo visto Jonathan Argentieri, poi con il dorsale di gara numero 9 Leonardo Becagli, poi con il dorsale di gara numero 23 troviamo Lorenzo Fortunato, anche lui attivissimo, e con il 75 Federico Cavallini. Questa è una fuga interessante perché davanti abbiamo dei ragazzi che hanno già fatto vedere ottime cose già nelle prime gare di stagione e nella passata stagione, basti ricordare Federico Cavallini, Lorenzo Fortunato, ma non solo perché lì davanti abbiamo anche Leonardo Becagli, grande protagonista che sicuramente anche nella stagione su pista, un atleta che milita nel gruppo sportivo Borgo Nuovo Migliore, che svolge come ormai da tradizione nella famiglia Becagli la doppia attività strada e pista, vediamo che questo atleta nel corso degli anni ha sicuramente migliorato grazie anche alla specialità della pista. Abbiamo visto che si è riaggiunto il dorsale di gara numero 79, quindi si è formato un quintetto adesso, si tratta di Federico Del Carlo, anche questo è uno degli atleti più attesi alla vigilia della corsa. Adesso passiamo sotto lo stagione di arrivo, ancora Leonardo Becagli a fare l'andatura, vi dicevo della doppia attività svolta da questo ragazzo, intanto due giri al termine, 6 chilometri e 400 metri per il quintetto al comando, gruppo che è segnalato con 15 secondi di ritardo, quindi prende campo questa importante azione, vediamo Federico Cavallini che chiude sulla coda dei fuggitivi, vediamo chi cerca di andare a raggiungere gli uomini al comando, sono le maglie del gruppo sportivo Iperfinish a tentare di agganciare la fuga, ed è un treno davvero a fare l'andatura, quindi prendono in mano la situazione gli atleti della società ciclistica Iperfinish, poi vediamo ancora le altre maglie che stanno cercando ovviamente di mantenere la testa della corsa, adesso siamo davvero nel finale, la fuga è stata raggiunta e prova ad allungare con il dorsale di gara numero 64, Linas Rumsas guadagna qualche metro di vantaggio il corridore in casacca Montepisano, qualche metro di vantaggio per lui, quando siamo ormai in vista del passaggio sotto l'ostruzione di arrivo che segnerà l'inizio dell'ultimo giro. Gli ultimi 3200 metri di questa corsa riservata alla categoria allievi, il Gran Premio Circo Loacci Tamburini e crede di aver vinto Rumsas, attenzione perché si è purtroppo sbagliato e quindi davvero una brutta delusione per l'atleta della Montepisano che alza le braccia un giro prima e quindi adesso il gruppo è tornato compatto e sarà quindi verosimilmente una volata, a meno che come è successo nella categoria esordienti non si assista ad un tentativo da finissera, è proprio in questo tratto che nella categoria esordienti se ne sono andati i 3 che poi si sono giocati il successo, ma qui il gruppo continua a rimanere compatto. Ormai ultimo chilometro per il gruppo che è ancora compatto, quindi ci attende davvero una volata, ranghi compatti a conclusione di questa importante manifestazione, nel Gran Premio Circo Loacci Tamburini, organizzazione gruppo sportivo Pozzarello lanciato lo sprint a maglia polisportiva a mille luci davanti a tutti e Gabriele Bonechi che va a vincere davanti a Leonardo Becagli della Borgo Nuovo Miglio in terza posizione Niccolò Pacinotti, seguono Claudio Nicolai, quinto è Yuri Colonna, sesto Gregorio Lombardi, settimo Mirko Meini, ottavo Jonathan Argentieri, nono Mattia Andreoli e decimo Emanuele Scardigli. Questo è l'epilogo del Gran Premio Circo Loacci Tamburini, successo di Gabriele Bonechi della polisportiva a mille luci ciclismo, secondo posto per Leonardo Becagli del gruppo sportivo Borgo Nuovo Miglio, terzo Niccolò Pacinotti del Veloclub Seano One. Gabriele Bonechi, degno vincitore di questo Gran Premio Sportivi, quindi del circolo Arci Tamburini, grossa soddisfazione Gabriele? Sì, grande soddisfazione, fa tutta la gara all'attacco, poi alla fine mi senti un po' mancare le forze, però ho trovato il barco in volata e ce l'ho fatta. Gabriele, l'anno scorso hai fatto una stagione, insomma, ora ti ritrovi come quando eri esordiente, vincitore. Sì, l'anno scorso sono mancato un pochino in certi periodi, ma tutto sommato non è andata male neanche l'anno scorso. Comunque stanno subito bene, avevo già fatto due corse buone e oggi è arrivata la vittoria. Bene, sentiamo un po' anche il direttore sportivo, Lenzi Davide. Allora, Lenzi, Davide, una squadra che va a mille ora. Sono veramente contento, penso che in fondo ce lo meritiamo, perché qualche salsonino dalle scarpe bisogna levarselo, alla terza corsa direi che ce lo siamo levato bello grosso. E' una dedica particolare a tutte e tre ragazzi, tutte e quattro, anche se Adriano oggi non c'era, perché abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e poi con questi grandi ragazzi i risultati arrivano. Senti Gabriele, a chi si dedica questo mazzo di fiori? Sicuramente a tutti i compagni di squadra, agli allenatori, ci hanno seguito tutto l'inverno, che ci hanno portato loro a fare questo grande risultato. Eccolo qua, Ugo Ginanni, il presidente di questo sodalizio, ormai infaticabile, tutti e sempre, tutti gli anni, Ugo, quando arriva le vittorie ti vedo anche un po' emozionato. Sì, l'emozione c'è sempre, poi è una vittoria che si aspettava, perché c'ha quattro ragazzi che ci danno grande soddisfazione, quantomeno di serietà. E poi sono i direttori sportivi eccezionali che non si stancano mai di stare dietro a loro e ci danno una grande forza per andare avanti anche come società. Io li ringrazio tutti e un bocchetto a questi ragazzi che possono continuare a Nodico a tutte le domenze a vincere però, a fare ottimi risultati, perché anche per la società, ma anche per loro stessi e per le loro famiglie. Siamo con Marco Baldi, è un grande tifoso di Iuri Colonna. Marco, che cosa vuoi dire a Iuri? Iuri è stato a prendere ogni anno perché Iuri è meritato per vincere e così come si si porta a Iuri come deve vincere e staccare, però lui deve essere allenato bene, però lui è stato molto bravo. Ezio Innocenti, presidente del gruppo sportivo Pozzarello che ha dato la regia a queste due belle manifestazioni. Ezio, grande pubblico, tanti corridori, anche una bella giornata. Davvero, abbiamo avuto fortuna, una bella giornata. Devo confessare che ho avuto paura oggi perché diciamo con tutti questi partenti siamo arrivati alla partenza degli esordienti e mancava il medico. Io qui vorrei fare no per polemica ma i perfezionisti dovrebbero essere un po' più seri perché qui si è mobilitato tantissima gente e poi per una persona che è mancata diciamo a fare il suo dovere è mancata quindi questo sono un po' rammacare di caso. Per quanto riguarda la gara sono contentito perché è una grossa cornice di pubblico diciamo un grande lotto di partenti e anche di qualità quindi niente sono contento della giornata che è venuto e grazie a tutti e a tutte le società che è venuto e al prossimo anno. I prossimi appuntamenti del gruppo sportivo Puzzarelli? I prossimi appuntamenti sono facciamo una gara di giovanissime ora il 31 luglio qui a Monsummano e poi la classica l'ultimo lunedì agosto il Bonacchi Nedo con Ciampi Florior Mirko Lauria eccetera questa gente qua. Bene siamo ora con Cipollini Auro diciamo così il presidente del circolo Arci Tamburini di Lamporetio che ogni anno fa sempre più bella questa manifestazione è un connubio Cerbaia Pozzarello che va avanti da anni Auro primi sprint che fra cui c'è anche la fetta chiamata Cerbaia in festa e noi per l'8 di giugno abbiamo i primi sprint poi quello che ha detto Ezio una bellissima giornata ha fatto le sue critiche però in compenso ci si è avuto tanto pubblico una bella giornata e in un paesino così come la Cerbaia aveci tanta gente così gli è una soddisfazione per noi della Casa del Popolo gli amici che ci danno la mano e penso anche per essere Pozzarello però vorrei fare un piccolo come si può dire critica ma non è una critica noi come sportivi di Cerbaia qui del Circolo Tamburini per organizzare una corsa così ci si è da fare per qualche mese purtroppo i soldi quando andiamo alle ditte non si capiscono perché si può dire tutta l'Italia che non va tanto bene per il lavoro andiamo e non ci danno niente o poco e noi come il Circolo per fare una corsa così ci diamo da fare mesi cene così però è un grande sacrificio poi si arriva dunque della giornata io ho detto non voglio fare una critica però bisognerebbe che i giudici e altri che bisogna di stare un po' più elastici perché non si sa da fare per organizzare però se dopo si arriva dunque della corsa e siamo criticati fa male ti passa un po' anche la voglia si sa passione però ti passa la voglia un po' perché non si trova sordi e più di essere criticati manca questo di essere laci sì manca guardiamo un po' se si può rimediare no la vogliono subito in quell'istante lì io dico questo però forse saranno parole al vento così però per organizzare la corsa ci vuole oggi tanto sacrificio ci hanno criticato perché ci sono troppi corridori qui sarebbe un discorso ancora ancora più lungo e sono già stato abbastanza lungo e non voglio andare oltre però non si è fatto del nostro meglio si è accettato tutte le società con tutto il cuore ci è andato tutto bene una bella giornata io dico l'ultima parola viva il ciclismo l'ultima parola l'ultima parola l'ultima parola